Raggiungo subito il nostro medico di famiglia, benvenuta alla dottoressa Marina Moscatelli, medico appunto di famiglia della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Sono tante le domande che ci hanno fatto i nostri telespettatori, anzi io vi invito a continuare a scriverci, sfruttate i nostri social come X, Instagram, Facebook, insomma, ma potete mandarci anche una mail, il mio medico chiocciolatv2000.it per poterci contattare e farci anche tante domande che poi noi gireremo ai nostri amici esperti. Allora, io prenderei spunto, non mi funziona il microfono? Ah, la dottoressa non funziona? Allora, vieni. Grazie, grazie perché abbiamo il cosiddetto gelato a nostra disposizione, siamo in diretta, succede, insomma, il funzionamento del microfono a volta fa cilecca. Allora, io prenderei spunto dal documento finale del G7 che c'è stato appunto ad Ancona, dieci giorni fa, e beh, in cui comunque si concentrava l'attenzione sull'importanza dei vaccini. Perché le dico questo, dottoressa? Perché ci scrive Ilaria da Como e ci chiede, mi hanno detto che c'è un nuovo virus che colpisce i polmoni degli anziani, è vero? Di che cosa ti tratta? Allora, è vero, ma non è tanto nuovo, nel senso che noi l'abbiamo conosciuto alla fine degli anni 80-90, parliamo del virus respiratorio sinciziale, che però non deve allarmare chi ci segue, non siamo, diciamo, al pari del virus della pandemia da Covid, è tutt'altra cosa. Questo virus è soprattutto di interesse neonatologico e pediatrico, quindi interessava i bambini, soprattutto negli anni 80-90, ma ora con l'allungamento della vita, con i grandi anziani, la quarta età, è diventato anch'esso un virus che è sottovalutato, ma che va appunto vigilato anche nella popolazione anziana. Nei bambini causa soprattutto la bronchiolite, che è una via di mezzo tra una polmonite e una bronchite, quindi è un quadro sintomatologico particolare. Però, insomma, adesso abbiamo anche dei provvedimenti e la cosa molto positiva è che proprio a novembre del 2024 la conferenza Stato-Regioni ha stanziato tanti soldi che andranno in capo alle regioni per dare la possibilità di fare un anticorpo monoclonale ai bambini affetti da questo virus respiratorio sinciziale. Questo è veramente una grande e bella notizia, perché questo eviterà le ospedalizzazioni nei bambini e il passaggio dai bambini alle persone più fragili e quindi ai nonni e alle persone un po' fragili. Questo vale un po' per tutti i virus che sono in circolazione, che saranno in circolazione, anzi... In co-circolazione. Esatto, in co-circolazione, perché purtroppo c'è questo mix tra virus. Dottoressa, vogliamo ricordare un po' i sintomi di questo virus? Di questa bronchiolite. Allora, il virus è soprattutto appunto causa queste bronchiolite che sono, dal punto di vista clinico, quasi indistinguibili dalle forme polmonitiche. Però, naturalmente, ci può essere un quadro di febbre, di debolezza estrema, di tosse persistente. Questi sintomi sia per i bambini sia per gli adulti? Sia per i bambini sia per gli adulti. Nei bambini sono più evidenti, soprattutto la tosse e la difficoltà a respirare. Ed è questo che poi impone una valutazione attenta e anche appunto un ricorso all'ospedalizzazione. E vi dico che nell'anno 2023 ci sono stati 15.000 bambini ospedalizzati. Ecco perché è estremamente importante riportare il focus su questo virus. Negli adulti può essere una sintomatologia analoga, ma un pochino, nei soggetti un po' più fragili, un pochino smorzata rispetto a quella dei bambini. Però altrettanto è importante. Tosse, bronchiolite, quindi tosse persistente e soprattutto difficoltà appunto a respirare. C'è anche il vaccino, no? Allora, il vaccino è stato approvato sia negli Stati Uniti sia nella EMA, che è l'agenzia europea, ma ancora non possiamo attuare la vaccinazione perché le regioni stanno appunto separatamente organizzando i tavoli, diciamo, di organizzativi sulla vaccinazione da virus respiratorio. Però c'è l'anticorpo, ci sono delle cure. C'è l'anticorpo, per cui ci sono delle cure. E quindi le cure sono fondamentali. Siamo in attesa di questo vaccino che è mRNA. Noi abbiamo iniziato a conto, insomma... Sì, sono tre tipi, anche ricombinanti. Due ricombinanti e uno del tipo la vaccinazione Covid. Però vogliamo ricordare una cosa, dottoressa, che è importante perché è iniziata la campagna vaccinale. Beh, allora, contro il pneumococco tutto l'anno. Tutto l'anno. Però questo è importante perché previene le polmoniti negli anziani. Sì, polmoniti di comunità. E poi vogliamo ricordare anche il vaccino antinfluenzale. Assolutamente. Adesso siamo in campagna vaccinale, noi medici di famiglia siamo ovviamente attivissimi. Dico solo, per esempio, nel Lazio abbiamo già vaccinato quasi 100.000 individui e la vaccinazione è iniziata dieci giorni fa. Noi siamo molto attivi e io anzi incito e invito tutti a parlare col proprio medico di famiglia e a fare la copertura. Quest'anno già abbiamo i casi di influenza, che è un'anomalia. In genere è sempre dopo Natale l'influenza. Quindi abbiamo la vaccinazione influenzale che è stagionale, l'opneumococco che possiamo fare tutto l'anno, soprattutto nei soggetti più anziani, con delle patologie associate e poi abbiamo anche altri vaccini, ancora il coronavirus, se possibile nei soggetti che sono un pochino più fragili. E quindi abbiamo la possibilità di prevenire tanti virus e bloccare. Non far circolare i virus nella comunità. No, non ci ricordiamo, ma questi virus provocano anche tanti decessi. Tantissime ospedalizzazioni anche. Anche ospedalizzazioni. E hanno un costo elevatissimo. Leggiamo un'altra domanda. Massimo, da Monza ci chiede, sono raffreddato e è ancora giusto fare il tampone? Allora, ho sentito dire da qualcuno, no, non c'è più bisogno. Allora, non c'è un obbligo specifico come era prima, però è giustissimo fare il tracciamento e sapere se ci troviamo di fronte a una sindrome influenzale, sono indistinguibili i sintomi o un coronavirus. Sempre per evitare di contagiare le persone anziane, perché vi ricordiamo che un quarto della nostra popolazione ormai è over 70 e quindi noi dobbiamo occuparci della protezione di questi individui. Ed è una buona regola fare ancora un tracciamento, anche se, ripeto, non c'è più l'isolamento, non c'è obbligo di denuncia, non c'è obbligo di fare nessuna... Però è un senso di responsabilità. E la terapia per curare il covid contro il coronavirus? Allora, abbiamo dei farmaci che riducono la carica virale e quindi rendono innocuo il virus e allora abbiamo delle compresse, che è una terapia che dura cinque giorni, è una terapia assolutamente sicura ed efficace che migliora l'evoluzione della malattia. Adesso rispondiamo ad Enrica, ci scrive da Potenza, ci chiede perché ogni anno con il cambio dell'ora mi sento stanca e confusa. È solo un caso? No, non è un caso. È oggetto di attenzione questo. Il passaggio dall'ora solare all'ora regale e viceversa è oggetto di studio serio. Perché ci sono delle persone che soffrono moltissimo per il cambio anche dell'orario, l'accorciamento delle giornate, in questo caso, stiamo tornando all'ora solare, oppure per l'allungamento delle giornate, quindi troppa luce. Ed è un ritmo interno che cambia, un bioritmo, anche neuroormonale. Noi con la luce e col buio rilasciamo più o meno tanti ormoni, anche quelli dello stress. E quindi il cambio di abitudini rischia di rendere la vita un pochino più... Ci dobbiamo adattare. Ecco, Enrica si sente stanca e confusa. È possibile. Ma ci sono anche altri disturbi correlati al cambio dell'ora? Sì, la tensione muscolare, un po' di depressione al cambio, sia perché si allungano, sia perché si accorciano le giornate, difficoltà appunto a concentrarsi e un senso di instabilità emotiva. Ci può essere descritto e gli studiosi stanno studiando anche che cosa significa per le persone cambiare il passaggio appunto da un'ora a un'altra, cambiare le abitudini. Molti paesi l'hanno anche abolito, no? Esatto, sarebbe forse opportuno ragionarci su questo. E allora cosa possiamo fare? Allora, intanto non bisogna spaventarsi, non è una malattia, ma è solo una sindrome da adattamento. Quindi aspettare che l'organismo con la sua capacità di adattamento si rimetta in moto in maniera fisiologica non è spaventoso. Però, appunto, siete in buona compagnia. Chi soffre di questo disturbo non è folle e non è neanche, diciamo, instabile. E ci può essere questo, questo adattamento che... Però, insomma, non ci dobbiamo preoccupare. Non terapia, magari qualche cambiamento nella nostra vita. Ci possiamo fare aiutare... Ah, certo! Ci possono essere dei cambiamenti, anche una forma di insonnia, no? Il risveglio precoce o la difficoltà ad addormentarsi. Però tutto si rimette in linea a mano a mano che poi ci si ritorna, insomma, nell'orario giusto. Nell'orario giusto, è vero. Grazie, grazie. Grazie a Dottoressa Moscatelli. Grazie per averci dato questi consigli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.